ciao e bentrovati mi sono mancato un paio di settimane che non pubblico video perché ho avuto dei problemi tecnici a volte io registro i video invece che in questa location diciamo che è molto bucolica e per me molto semplice perché mentre sono a spasso con Django registro alcuni video li avete visti sono in studio diciamo così col green screen dietro voi vedete uno schermo azzurro quelli mi richiedono più tempo per la realizzazione perché dovevo preparare il set eccetera ne avevo preparati due che dovevano uscire a distanza di una settimana l'una dall'altro ma poi qualcosa è andato storto e ho perso il lavoro fatto recupererò peraltro vi chiedo di scrivermi nei commenti se vi piace più questa location oppure i video fatti in studio peraltro quelli fatti studio dovevano essere di un argomento che secondo me è molto richiesto cioè la passeggiata al guinzaglio il cane che non deve tirare il guinzaglio chiamiamola condotta al guinzaglio poi sarò più preciso quando farò di nuovo il video oggi invece parlo di un'altra cosa di un altro argomento che mi è stato chiesto specificatamente sotto uno dei video allora come liberarsi man mano della schiavitù dei premi per educare il cane intanto io vi chiedo di fare una cosa ovviamente torna anche a mio vantaggio sappiate che molte delle pillole che io dispenso di educazione cinofila sono sparse nei vari video perché oggi me ne viene in mente una domani un'altra quindi se mi seguite assiduamente riuscite a captare queste informazioni che vi do a volte invece qualcuno magari va a salti vede alcuni video si altri no e se ne perde qualcuna questo argomento in particolare cioè come non essere schiavi dei premi nell'educazione del cane io l'avevo già trattato nei due video se non ricordo male si chiamano i rinforzi ponte e condizionamento classico e operante ora non ricordo esattamente quali fossero però credo che forse è sfuggito a qualcuno e quindi ci torno sull'argomento ne faccio un video più corto sintetizzando qual è il concetto il concetto qual è ovviamente ed è una delle cose di cui molti hanno paura cioè di dover essere schiavi di avere sempre con sé un premio per l'educazione del cane come se il cane per fare un compiere un'azione seguire un comando abbia sempre bisogno del bocconcino io ti faccio vedere il bocconcino tu ti metti seduto se non ho più il bocconcino tu non eseguirai il comando allora non è proprio così cercherò di non essere molto tecnico ma di andare sul pratico sappiate che quando fate vedere il bocconcino per avere l'esecuzione di un comando quello non è il premio quello è uno stimolo ti faccio vedere il bocconcino è uno stimolo visivo compilazione una volta che l'hai compiuta ti premio a quel punto diventa un premio quindi qual è il procedimento noi dobbiamo eliminare lo stimolo visivo sostituendolo con un comando quindi le prime volte io ti faccio vedere lo stimolo lo utilizzo anche per muovere il tuo corpo tuo cane ovviamente e ti faccio andare seduto dopo che ho eseguito esattamente questo movimento ovviamente ora sto facendo l'esempio del seduto ma vale per tutto sostituisco lo stimolo dicendo un comando seduto all'inizio lo introduco contemporaneamente mi stimolo e comando seduto man mano eliminerò lo stimolo visivo e utilizzerò solo il comando primo punto secondo punto il premio spesso capita che i cani se non hanno lo stimolo cioè se non annusano il bocconcino non eseguono il comando perché sanno che poi non arriverà il premio come si fa premesso che all'inizio quando insegnate qualcosa di nuovo dovete sempre utilizzare stimolo primario quindi una cosa molto succulente importante e premio ogni volta per molto tempo io consiglio almeno due settimane per ogni nuova conoscenza per ogni nuovo comando che diamo al cane per il seduto per il terra per il fermo per il vieni per qualunque la zampa qualunque cosa vogliamo fare anche cose più importanti almeno per due settimane sempre perennemente stimolo forte e premio però poi il cuore di questo video come faccio a liberarmi di questa schiavitù beh togliendo man mano il premio al cane come cominciando ad alternare una volta premio una volta no ti dico solo bravo e una carezza una volta premio due volte no due volte premio una volta no man mano andrò a diminuire le volte la quantità di premi che io do attenzione attenzione a non essere matematici in questa cosa perché i cani questo lo ripeto sempre meccanizzano tutto cioè creano delle routine nel cervello per qualunque cosa quindi se io utilizzo una cadenza matematica una volta sì una volta no una volta sì e tre no una volta sì e due no qualunque essa sia il cane a un certo punto è capace di sintetizzarla capirla e quindi saprà che ogni due volte avrà il premio rischiate quindi che quando sai che il premio non c'è non esegua noi dobbiamo per così dire prenderlo di sorpresa non usare una routine riconoscibile tant'è vero che io vi consiglio anche dopo che per un po' avete cominciato a scalare il numero di volte che gli darete il premio poi a sorpresa cominciate qualche volta a premiarlo ogni volta di nuovo e poi ricominciate a scalare il cane deve come dire avere il dubbio ogni volta che sia la volta buona e poi vedrete che quando il meccanismo si instaura e soprattutto c'è un rapporto vero col cane perché queste cose servono per insegnare dei comandi ma soprattutto per avere un rapporto col cane poi il cane seguirà i comandi anche senza premio solo perché li richiedete voi lì a quel punto quando insegnate una cosa nuova sarà difficile fargli capire cosa volete ma non so ieri per raccontarvene una ho fatto salire Django in una vasca per il lavaggio dove lui non era mai salito lui non sapeva cosa dovesse fare però l'ha fatto perché glielo ho chiesto io è stato difficile fargli capire cosa volessi gli facevo segno facevo dai vieni salta usavo dei comandi più o meno simili ad altri comandi che usavo altre volte ma alla fine l'ha fatto senza premio va bene ditevi se stavolta è più chiaro scrivetemelo nei commenti se è più chiaro come fare a liberarsi della schiavitù dei premi se non è chiaro cercherò di tornarci nuovamente e farne ancora un altro video scrivetemi anche se vi piacciono di più questi video bucolici o quelli in studio e non dimenticatevi io ve lo chiedo ogni volta di iscrivervi al canale youtube mettere un like al video e premere sulla campanellina delle notifiche se state guardando il video su instagram ricordatevi di seguirmi e mettere un mi piace alla pagina facebook di educane ciao 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 ciao